Per quest'oggi l'assistente segreto ci ha voluto sfidare creando una modalità praticamente impossibile di Minecraft Ma davvero? Te la senti di affrontarla? Certo, sono curiosissima Steph, voglio proprio vedere come sarà questa modalità Un po' sono preoccupato perché mi ha detto che ha messo una cosa che crea una modifica dei dungeon Una cosa che potenzia tutti i mostri di Minecraft Sono mille e due cose, un po' di paura mi viene, devo essere sincero Sarà interessante, dai, sarà una bella sfida Ok, allora in ogni caso per ora entriamo dentro Abbiamo Tur-Tur-Dar Tur-Tur-Dar Dillo veloce Steph Tur-Tur-Dar Eh, se lo dici veloce non si capisce che sbagli e lui non si offende, vai Ok, parliamo con lui e vediamo un po' cosa ci dice Ciao Steph il Magnifico Ciao Benvenuti nella mia umile casa Presumo che siete qui per darmi una mano con il mio piccolo problema dei mostri in cantina Scusa Steph, chi ha parlato di mostri? Tu mi hai detto di modalità bellissima, di cose difficili, ma che vuole? Eh beh, i mostri, i mob, cose brutte, Fede, quello ci sta Ma il discorso è che io non aiuto nessuno, io sono qua soltanto per affrontare una sfida La sfida dell'assistente segreto Vabbè, ascolta Steph, fagli l'occhiolino e facciamo il suo gioco Sì, siamo noi, siamo noi Sono felice che siate finalmente qui Già Eh, hai visto che bravi Il problema è peggiorato di giorno in giorno Ho costruito una miniera nella mia cantina e una notte fu infestata da zombie, scheletri, ragni e perfino creepers Ok È spaventoso laggiù, un semplice miniatore come me non può risolvere questo problema Ma se siete disposti ad andare laggiù e a sterminare i mobs e i loro spawn, alla fine della miniera ho una stanza piena di ricchezze Un vecchio uomo come me non ne ha bisogno, quindi potete tenerle Siete disposti Ma certo, mio chiaro, turtudor, portavi dirlo prima Cioè adesso sì È già partita Che le cose si fanno giuste, Steph Certo, rispondi, ma certo Sto aspettando che finisce il tomo Lo sapevamo, mi hai fatto una sorpresa, vero, Steph? No, me l'avevi detto per tenermi la sorpresa e quindi farmi vedere poi la stanza piena di ricchezze, vero? È questa la vera missione di oggi, no? Sì, esatto Giusto? Lo sapeva Ma certo Ci sono, allora, ho due cesto con dell'equipaggiamento al pieno di sopra Prendete tutto quello che vi serve, meno male perché al momento sono solo con i pugni e non ce la potrei fare Ci sono delle frecce fatte da me che vi indicheranno come raggiungere la stanza delle ricchezze segrete Minate dove c'è il segno X e troverete la stanza segreta Ripeto, potrete prendere tutto quello che preferite E grazie ancora Quindi ovviamente preferirò tutto e prenderò tutto Sì, quello lo sapevamo già Allora, quindi ho detto al pieno di sopra Che dovrebbe essere questo qua Ok, sì, vedo due ceste Carina questa stanza Molto carina Io prendo quella di sinistra E vabbè Precce tutto questo bisogno Sì C'è C'è da dire, Steph, che noi sì, stiamo aiutando Turtular Hai capito? Turtular Ok Però, 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 mi hai anche detto che la difficoltà di questo mondo è aumentata Quindi i mob non saranno dei semplici mob Ok Ma da qui a vedere l'armatura full enchantata, la spada enchantata, le mele d'oro 32 più una di quella fortissima Cioè, vuol dire che stiamo andando ad affrontare roba proprio pericolosa Sì, 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 sì Sono un po' preoccupato L'assistente segreto mi sa che qua è esagerato Ma qui dentro c'è altro? Ah, vabbè, dai Schifezzo Non ce ne facciamo No, dai Saranno le sue cose Esatto Quelle non tocchiamole, non ci servono Siamo già ben equipaggiati Esattamente Già stiamo andando a prendere fin troppe ricchezze Ok, allora, io mi mangio una bella bistecchina E direi che possiamo partire Volevo sgobbare la torta, ma non ho fame in questo momento Ok Sei pronta? Sì Si scende di qui Ah, è qui la cantina Sì, allora, la discesa è molto profonda Stai attenta a non cadere Ho notato E stiamo attenti a vedere Ma quanto è profonda, non finisce più Se c'è subito Ancora molto, eh Ok, ecco, siamo alla seconda fase Oh, cavolo Qua si fa pericolosa Si può cadere C'è subito Oh, mamma Steph, che ti succede? Scheletri Uno allo stesso Uh, quanti Da dov'è, da dov'è Ok, bravissima Allora, mettiamo subito delle luci Ecco, ecco, l'ho messa, l'ho messa Ok, allora Da questo lato È tutto chiuso Da questo lato è tutto chiuso Però vedo una freccia Mentre Però ci sono anche qua Esatto, guarda Eh, direi che la strada giusta è quella delle frecce, Steph Sì, beh Questa qua è una freccia rossa che indica di andare di lì Andiamo di lì Beh, sicuramente lui stesso doveva ricordarsi dove è la stanza Aspetta Quindi l'avrà fatta anche per non dimenticarsi Che c'è? Sto un attimo Magari è la sua stanzetta per quando scende qui sotto, Steph Ma non può più scendere qui sotto Ah, beh Probabilmente era quello Devi contare, Steph, che ha fatto la miniera Per un preciso motivo Poi è stata infestata Chiudiamo la porta così non possono entrare i mostri Esatto, è stata infestata Ma lui sicuramente voleva stare qua nel mentre che mina Ok, allora C'è uno zombie a destra Vabbè L'ho pesto Ma non siamo in 1.10 Possiamo spammare No, no, infatti No, Steph Non mi ero accorto Uh, Steph Uno scheletro nell'oscurità Aspetta Ok Occhio Guardali come sono forti È pure armato Cavolo Via, 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 via Oh, mamma mia Sono forti Non muore Esatto, è quello che stavo cercando di dirti Vado Ok Ok, Steph C'è anche uno spawner Ci penso io Dobbiamo distruggerli, eh Anche perché lui ce l'ha chiesto di distruggerli Beh, certo, perché altrimenti tornano sempre e non gli danno mai touch, Steph Questa spada a 6 è davvero bellina, però non ci serve troppo Fire resistance io me lo prendo, perché comunque può essere utile Metti che abbiamo un pezzo dove c'è la distruggerla della lava Certo, certo Guarda l'altro Ah, non capivo, stava venendo un colpo No, ma sento rumori che non esistono Bellissimo Ce n'è un altro Io odio i ragni su Minecraft, porca miseria Stanno arrampicati ovunque No, non saltare, maledetto Ok Allora, quindi seguiamo questa freccia Seguiamo quest'altra freccia Fai attenzione, Steph Sì, il problema è che ogni volta Oh, cavolo, aspetta Torcia al volo, perché sennò non vediamo nulla Ok 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 Allora, torcia anche qui, blocco subito Fretto più in segno di spider Ok, vado, 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 vado Mi seguono Allora, sono tanti, Steph Devo fare attenzione, perché sennò poi colpisco te Ti do una sberla che ti svegli domani mattina, guarda Ok, allora, anche questo l'abbiamo annullato Perfetto, siamo a due Vediamo se c'è ancora qualcosa di interessante Potion of weakness Potremmo tirarla su qualcuno Ma dai, non è troppo importante A medicinal Laudanum Cos'è, Fere? Non ho mai sentito parlare di una pozione simile Io lo prendo Prova ad usarla Perché? Io mi allontano un po' però, vai Oh, mi ha fatto star male, Steph Ok Ho debolezza, nausea, lentezza Però ho regeneration anche, quindi Magari ti cura, però ti fa star male Ok Io non avevo bisogno di stare curata Nello specifico La freccia dice di andare di qui Ok Aspetta, io riempio tutto di torcia Ok, era un pipisterello Pensavo fosse un altro ragno che mi saltava addosso Ok Ok, dobbiamo andare di sotto Ma prima Veloce, Steph Ok Ok Vediamo che c'è qua Ok, cosa c'è? Moonshine Niente di che, niente di che Aspetta, cos'è la moonshine? Vai, Steph Io sono la cavia Ok Cos'è la moonshine? Ma mi piace avere pozioni Allora Si è presa una sberla incredibile Ho perso metà vita e non vedo niente Ho la blindness Ok Quindi sono accecata in questo istante Brava, Steph E allora C'è un problema Dimmi Dobbiamo scendere qua sotto Steph, no, mi dura per un altro minuto e cinquanta Io anche con le torce non vedo niente Aspetta Fammi strada, Steph Spiegami Davanti a te, dietro di te Qui, qui, qui Mi vedi? Sì, più o meno Ok, allora Attenta a non cadere Dura ancora un minuto e quarta Quarta, Steph Non finirà mai Aiuto Ok, credo che siamo andati nel secondo livello Di questo postaccio Ok Allora, la freccia dice di andare di qui Ma era anche ovvio Steph, aspetta Ho perso Ma che mi hai perso? Ma dai, ma non vedi nulla No, no, non si vede niente Vedo solo dove ci sono i miei piedi Non l'hai visto il mio schermo? Guarda Aspetta, aspetta Adesso dove sei tu? Guarda Non ti posso guardare Ok Ascolta, questo Ehi via Non vedo niente Mi tira frecce Cioè io non lo posso colpire da lontano Ci penso io Cavolo Ok Gli abbiamo rotto l'armatura Che tragedia che fa Ferre ogni volta E basta Ma quanti siete? No vabbè Ok Qua è pieno Eh, non li vedo Creeper smettila veloce Sento solo rumori Io non vedo una ceppa Io non vedo una ceppa Io non vedo una ceppa È pieno di mo Stef, non ti posso aiutare Non vedo niente Vai via, vai via Aspettiamo un attimino che mi passi Quaranta secondi, Stef Aspetta quaranta secondi E ti posso aiutare Non vedo niente È impossibile È molto peggio adesso È diventato molto peggio Ebbè, siamo a livello 2 Che pretendi che fosse anche semplice? No, ma cavolo Ma io pensavo ci fosse subito A sta stanza delle ricchezze Non che dovessimo fare tutto questo, Stef Questo è da rompere assolutamente Ce ne sono altri? Ce ne sono altri? Sono tristissima Non hai del latte, per sbaglio No, Fere Perché dovrei avere del latte? Non si sa mai che magari lo trovi Qua non ci sono altri spawner Qui per forza E infatti Ok Rompi, 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 rompi Perfetto È finito, Stef No, non posso camminare che non si vada No, da risalire Non fare le cose senza di me Aspettami, 5 secondi, dai 4 3 2 1 Ah Che cavolo Dove sei finito? Ma che posto è? Mi sono un po' perso Perché stavo togliendo gli spawner Per evitare che continuasse Ad arrivarci l'ordata di mostri Però Sono finito di una sorta di taverna Ma, Stef, questo buco? E quello l'ho saldato, Fere Perché sembra pericoloso quel posto Oh, mamma mia Eh sì, sembra pericoloso Se vieni a vedere Secondo me c'era la taverna Dove si riunivano tutti i minatori Che continuavano a minare Appunto in questo bellissimo posto Fammi vedere Guarda che bello Sì, sì Perché tecnicamente Questa dovrebbe essere una miniera Non un dungeon, Stef È interessante, no? È bello È molto carino Molto carino Allora, fammi un attimo capire Qui sotto Mi hai spinto, Fere? No, si è caduto da solo No, Fere, qualcosa mi ha spinto, eh Ah no, Stef C'è un tasto Esatto Era una trappola Guarda Sto scherzando Aspetta anche a me l'ha fatto Perché l'hai fatto, Fere? Oh, era carino Fere, ma... Era per fartelo rivedere Siamo fregati A parte che non l'ho neanche rivisto Quindi è stato inutile Era praticamente un... Una pressure plate Che se tu la premevi Usciva fuori un blocco di legno Che ti spingeva Ok, adesso che facciamo? Eh... Non abbiamo blocchi? Già Annegheremo allora, Stef Sai che ti uccide, vero? Dai, fai una stradina, su Bravo, bravo, Stef Guarda come scava Trovo anche la red Sto, ma che bravo minatore, Stef Non scavare troppo in profondità In cose strane, Stef Ok, poi finiamo in qualche stanza brutta Non ho blocchi Spiegami dove devo andare Di lato, non dritto Tipo di qua, capito? E poi? Dietro di te Vai via! Nessuno ti ha invitato, ok? Devi stare nel tuo pozzo Ma stai calma E mi sta rovinando il gioco Ok, Fere Ho trovato... Cioè, avevamo praticamente finito Porca miseria Ma sei tu che sei cascato per prima Non costruirmi sotto, Stef Ciao, Fere Dai, Stef È pieno di mob Che odioso Siamo in un livello ben peggiore Di quello dove eravamo Ok Come cavolo risaliamo? Allora, questi li lasciamo chiusi A te che sono chiusi Credo che dobbiamo andare Una volta più in alto Ok Per ritrovare Il posto Beh, siamo cascati Tutto ok? Sì, ma è molto brutto Sto posto È pieno di mostri Ok No, no È infinito E poi quanto cavolo Sono forti qui sotto Ponto Non riesco a stenderli E schiatta te E schiatta Ok, anche tu Per favore No, dai, vabbè Quanti ti devo dare Ok Scherzate, vero? Voi scherzate Io lo spero Io lo spero che voi scherzate Uno Due Dov'è? Dov'è lo spawner? Devo trovarlo Ho finito le torce Senza torce non posso andare avanti Scusate Scusate Ho cambiato idea Me ne vado Ok Io ci sono, Steph Cioè, sei tornata? Tu mi stai prendendo in giro? No, non sono tornata in questo momento Ma ho ritrovato la strada Da cui dovevamo salire in principio Quindi adesso mi faccio una bella scaletta da qui Salgo dritta E ritroverò la strada giusta, Steph E tu rimarrai lì solo per sempre Vedremo Ti stai tipizzando? No Stai scrivendo cose? Smettila, vattene! Non ti voglio, Steph, eh Ognuno per sé hai detto Vattene Sto facendo la mia tattica Mica sono con te Non siamo mica in squadra insieme Impecille Ti avevo detto Torniamo indietro Però vedi che è la strada giusta Basta risalire sopra Eh, ma quanto manca per risalire? Oh, non troppo Vedo comunque la fine E poi tenta a non riprendere trappole Quando ci arrivi Ok E poi sei lenta, cavolo Eh no, perché è lunga la strada, Steph Non è che sei lenta È molto lunga Sei lenta Fai re Cioè, adesso arriva Steph Ti supero Chi ci arriva prima La fine è chi ha risolto, no? No È chi ha perso Come un infame Però c'è Steph Ok Questa è la strada giusta Vattene, Steph E mi rompe le torce Vattene Cimile Dai, perché mi costruisci la testa? No Cos'hai combinato? Un mob mi ha aiutato Sono ricaduto giù Anche a me Mi hai fatto colpire Steph Stai facendo solo disastri Smettila, per favore Aiuto C'è una pozza piena di mob Non cadere No, sono caduta Mi hai fatto cadere tu Questa era la trappola Ok Le sto rompendo Ok Eh, non ho blocchi per salire Basta Sti mob Accidenti a te Ma che vuoi? Ma chi ti ha questo qualcosa? Allora Quindi Stavamo cercando il tesoro Eccolo qua Avamo finito comunque Come avamo finito? Sì Grazie Steph Tutto perché tu prendi le trappole Allora Mi dai una mano oppure no? No Uccidimi i mostri Dai Steph Uccidili mentre salgo Se no non mi fanno salire No, no, tranquilla Dai Tranquilla Io se arrivo l'ammazzo Sì Sì Ho deciso Io salgo su e ti ammazzo Perché non meriti la vita Dove sei? Ce l'hai fatta ad arrivare? Ma sono salita su adesso? Adesso devi trovare la, 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 quella E ti sei chiuso dentro? Sì Ma non fai ridere a nessuno Spera, 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 spera Te lo meriti, hai rotto le scatole Muori No, devi morire Devi morire Ho mangiato la mela d'oro Non mi puoi ammazzare Smettila Non te lo prendi il tesoro Non te lo prendi Non te lo meriti Fai schifo Vattene Vai fuori Vai fuori Hai rotto le scatole durante tutto il viaggio Nessuno vuole più viaggiare con te Accidenti a te, Steph Accidenti a te Che pazza E ho preso anche tutti i tuoi diamanti Arrangiati Sì, perché mi sono accorto che avevo un inventario pieno E non me l'ha luttato Ciao, tur-tur-tar 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 Abbiamo liberato tutta la miniera Non c'è più problema Siamo presi tutti i tuoi diamanti Ho ben 17 blocchi Più uno smeraldo che aveva preso Steph Ma che me lo so sgobbata io Guarda, ti regalo anche una golden apple Così sei a posto quando dovrei scendere a finire il lavoraccio in quella miniera Ciao Ciao Steph, ma sta piovendo ed è notte Che facciamo? Eh, va bene, stiamo a casa di tur-tur-tar No, no, rimango Rimaniamo ospiti da lui Rimaniamo ospiti da lui Mi siedo qua e mangio Esatto, esatto, basta Grazie a tutti